Come on, listen to me! Come on, brothers and sisters! Sanctify! Sanctify! Sanctify your soul! Sanctify! Amen! I've got the devil in me! Basta! No, no, pensavate che dovevamo ballare con Zucco questa mattina. Ci ho provato, ma mi aveva detto che non era possibile. Non mi consentono di fare la relazione. Allora, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. Devo dirvi più altre cose su questi brevissimi filmati che avete sentito. Tra l'altro il primo diceva santificate, no? Santificate l'anima, addirittura. E poi il Zucco che ha detto ma c'è un diavolo in me. Interessante questa lotta, no? E io dico che è sempre la lotta dell'uomo. L'uomo vuole essere sempre migliore, perfetto, no? Essere buono. Poi in realtà dentro di sé ha delle difficoltà. Lui lo chiama il diavolo, qualcuno può chiamarlo anche in un altro modo, ma di fatto è molto interessante vedere l'uomo tutti i giorni come combatte. Combatte tutti i giorni per essere migliore, ma ahimè ha delle cadute. Questo è forse dubbio. Ma l'altro contrasto che avete sentito dopo la parola di Zucco è il... È il sapore di sale. Ed è un altro contrasto della nostra vita quotidiana. Zucco è salato, no? Dolce è salato. E tendenzialmente a noi un cibo se ce lo portano sciapiti non ci piace. Questa è evidente. Amico, conosco le tue opere, tu non sei né freddo né caldo, magari tu fossi freddo o caldo, ma potrei sentire tutto, non sei tu né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Grazie. Questo è un intervento dal profondo. Chi è Costuri? Ah, ecco qua. Pensate un po', sono parole di San Giovanni Apostolo dal libro dell'Apocalisse. Conosco le tue opere, tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Poi pensate, persino il Signore si è scomodato per dirci che le persone sciapite non servono a nulla. Eh? Cioè, molto spesso nelle imprese raccontiamo la storia della rana bollita, quella che nel tepole va e poi alla fine se ne va, perché non reagisce, perché l'acqua è tiepida e quindi non è né fredda né calda. In realtà, molto spesso alla fine della rana, la facciamo noi, noi persone, è pensare di trascorrere la nostra vita sulla terra, questo periodo, in un tempo che ci è dato, da uomini sciapiti, mi sembra che non sia proprio il massimo, no? del nostro desiderio, perché l'uomo è un essere relazionale, è nato per stare insieme con gli altri, è lì che si realizza, nella relazione, no? E' nel avere sempre questo desiderio costante di essere migliore del giorno prima. E questo migliore sta nell'essere uomo, in quanto tale, ovviamente, no? Non nell'avere, ma nell'essere. Mi piace farvi vedere questa brevissima citazione, appunto, di Bandeson, un sociologo, ma in cui diventiamo anche un po' più filosofo. Nel regno degli esseri viventi non esiste una cosa, ma solo relazioni. Voi immaginate una persona che è sempre, è sempre solitaria. La moglie dice, ma stasera andiamo, che abbiamo un incontro, no, la Chester, non c'è il cuore. L'atteggiamento più interessante di questi ultimi anni, forse, è l'uomo tipico davanti a Sky alla televisione, col suo graffino, che non vuole essere disturbato e non vuole fare nulla. E ovviamente viene vedo, secondo me, al principio per cui lui è nato, tendenzialmente. Vorrei farvi vedere questo piccolissimo circuito causale dell'essere. È un circuito, ovviamente, virtuoso, che introduce già un po' il tema di oggi, che è il tema dell'apprendimento e del cambiamento. L'uomo, la ricerca di essere, per essere a bisogno di molte relazioni, sono le relazioni che generano l'apprendimento. L'apprendimento, se è vero apprendimento, genera un cambiamento della propria vita e il cambiamento riproduce, ovviamente, la possibilità all'uomo di essere. E sappiamo tutti quanti come questo circuito è molto interessante nella piccola età, nell'infanzia, e diventa un po' meno utilizzato nella tarda età, dove qualcuno che pensa di essere arrivato, pensa che non deve più apprendere. Invece, se noi poniamo l'attenzione all'essere, allora è importante ripercorrere ancora una volta questo circuito. Mi ricordo quando ero ragazzo, l'ho frequentato per molti anni l'azione cattolica, e quando andavamo nelle parrocchie, oggi eravamo di essere parrocchie, la solita cosa che si diceva tra i giovani, perché i giovani erano più torbolenti, gli adulti un po' meno, ma i giovani avevano sempre di che lamentassi con il parroco, in continuazione, e il parroco è così, e quello è vecchio, quello non capisce, quello là, noi siamo giovani. E allora, mi ricordo che molto spesso nelle riunioni si diceva ogni comunità ha il parroco che si merita. È interessante questa frase, perché in realtà, è vera, verissima, ma è tanto vera che sovrasta ogni aspettativa, perché in realtà il parroco in una parrocchia lo nomina il vescovo, quindi in realtà come fa un parrocchiano a dire che io mi merito quel parroco, se il vescovo me lo imposto? Cioè, no, ma invece sì, perché il modo con cui vivo la comunità, e il parroco vive nella comunità, è con noi, qualcuno dice anche prego per il parroco, in realtà il parroco, vuol dire, riesce a donare e a stare nella comunità, nel modo con cui la comunità gli chiede di stare e di essere parroco. Voi pensate adesso, se questa frase è vera, pensate, facciamo una trasposizione nelle pubbliche amministrazioni, allora noi potremmo dire, ogni comunità ha il sindaco che si merita. E anche questa è una cosa più vera, perché ovviamente un sindaco noi ce lo andiamo a scegliere, ce lo scegliamo, lo votiamo. Il problema però sta in quel meritare, che cosa voglio dire? Che in realtà non è che noi ci meritiamo il sindaco che abbiamo scelto, perché l'abbiamo eletto e lì. In realtà questo sindaco poi deve lavorare per 4 anni, per 5 anni, dico Paolo del sindaco perché è la cosa più semplice, possiamo parlare del presidente della regione, di qualche assessore, no. Che cosa significa? È il sindaco che ci meritiamo. Significa che se noi non facciamo nulla, lui non farà nulla. Questo voglio dire che è il nostro modo di agire con lui, con il suo modo di essere sindaco, di fare sindaco, è la nostra partecipazione alla vita sociale che può consentire a un pubblico amministratore di cambiare il suo modo di essere. Una comunità di tiepidi sicuramente avrà un sindaco tiepidi, perché non ha bisogno di reagire o di agire rispetto a niente. È una comunità che non esige niente. Ma guardiamo un altro aspetto anche di quel meritare. Sapete, appena dopo è eletto il sindaco, tendenzialmente i cosi li vanno a chiedere le persone. Ripeto, uso il termine sindaco per usare un termine qualsiasi, comunque mi c'è da... Penso ai due assessori che sono qui, quante volte le persone sono andate, da Martino o da Magnico Grunieri, a chiedere qualche cosa. Che cosa gli hanno chiesto? Provo a dirla, eh. Qualcosa di assolutamente personale ed individuale. Cioè, mi soddisfi un bisogno? Questo è il concetto. I cittadini hanno un approccio con la pubblicizzazione a chiedere soddisfazione di qualche bisogno individuale e non per la comunità. Allora, anche io l'ultima volta che ho incontrato Minervini gli ho chiesto una cosa. Però può ammettere che ho chiesto una cosa, devo dire, per il bene comune, no? E non una cosa che serviva a me, a me, a me, a mia famiglia, a mio fratello, a mia sorella e qualcun altro. Perché lo stile delle nostre richieste ai pubblici amministratori è la soddisfazione di qualche cosa che soddisfi il nostro benessere, tra virgolette individuale o familiare. Quanti cittadini si muovono per chiedere a un pubblico amministratore qualcosa che soddisfi il bene comune? Voi mi direte, ma, sabatina stai facendo un po' troppo la poesia. fa bene comune, non sappiamo noi che cos'è il bene comune, figuriamoci il cittadino di strada.